Mentre va avanti la campagna vaccinale anche a Pescara, dove questa mattina sono iniziate e andranno avanti fino a venerdì 30 aprile le somministrazioni di vaccini AstraZeneca agli ultra sessantenni presso il Palafiere d'Anelli di Via Tirino a Pescara, come possiamo vedere dalle immagini che sono state realizzate proprio questa mattina dal collega Diego Martelli. 3.500 le dosi a disposizione per i cittadini che hanno un'età compresa tra 60 e 80 anni. Oggi la somministrazione dei primi 1.000 vaccini, lunedì altri 800 e poi a seguire per tutta la settimana fino all'esaurimento delle 3.500 dosi disponibili. I cittadini possono prenotare il vaccino AstraZeneca sul sito del Comune di Pescara, l'organizzazione frutto della sinergia logistica tra l'amministrazione comunale e l'azienda sanitaria ed è finalizzata a dare piena continuità alla campagna vaccinale per evitare rallentamenti o flessioni nella campagna di immunizzazione. Abbiamo aperto il portale che abbiamo già utilizzato per i tamponi e per le vaccinazioni dei fragili, ha spiegato il sindaco di Pescara Carlo Masci. Tutti coloro che vivono in città e in provincia potranno prenotarsi ricevendo notizia del giorno e dell'ora in cui dovranno venire a fare il vaccino AstraZeneca. Non è possibile presentarsi senza prenotazione per evitare assembramenti. Chi si fosse già prenotato sulla piattaforma delle poste, ha continuato il sindaco, potrà comunque prenotarsi sul sito del Comune e ricevere questa settimana il vaccino AstraZeneca per poi annullare la prenotazione precedentemente registrata con le poste.